3.000 turbodiesel V6 da 249 CV, molto buona la coppia, impone delle buone accelerazioni già dalle basse velocità, mentre nella zona alta il contegiri arranca un pochino. Livello di comfort generale direi eccellente, il lavoro delle sospensioni è molto buono, la macchina è molto molleggiata e non ci riporta in abitacolo nessun tipo di vibrazione. Buona la silenziosità, velocità costante. Buona sicurezza che ci dà il posteriore nonostante il rollio sia marcato. L'elettronica interviene solo in caso di limiti di atterenza. L'effetto dieta a base di alluminio è avvertibile, non ci piace però la velocità con la quale si corica in curva. Si sente la vettura dondolare ed è molto rapida a coricarsi su un fianco tra una curva e l'altra. L'elettronica impianta L'elettronica interviene russo in viaggio